Ci parlavi sulla giocci, eh? Eh, bello! Io stavo vedendo i cavalli, però... Ah, non so per i cavalli. Devo dire, onestamente, mi piacciono, ma secondo me il miglior animale del mondo rimane il cane. Gli manca solo la parola. Cioè, che stai dicendo? Dietro non c'è un cane che parlai. Il cane tuo parlava? Eh, volevo dire, c'è un po' il nodo. Il cane tuo era capace di dire il suo nome? Ah, il suo nome. Bestia! E come si chiamava? BAU-BAU! C'è un po' la fragia, ma BAU-BAU! C'è un po' la fragia, ma BAU-BAU! BAU-BAU! La cucaracha, la cucaracha...